La vita Quante belle speranze, quante grandi allusioni, i vestiti di bianco per noi sono invenzioni. Caro amico ricorda, non c'è niente da fare, fuoco e ruota da tempo che hanno già collaudato. A te quindi non resta che trainare la barca e remare, remare, morte sino alla fine. Si può darsi talvolta lungo il duro tracetto, che tu incontri qualcosa che profumi di un uomo. Ma se fai attenzione e non usi ben bene, quel profumo da tempo e la sua pubblicità. Si può darsi talvolta lungo il duro tracetto, che tu incontri qualcosa che profumi di nuovo. Ma se fai attenzione e non usi ben bene, quel profumo purtroppo ha già la sua pubblicità.